Action, Lord Vincent Lyonhaft, il vostro poeta erotico epico preferito. Oggi risvegliamo tutti i sensi, andiamo su sentieri radiosi perversi, con i sorrisi inebriati su tutti i nostri visi di trasgressione inondati, le bonazze, gnocche piccanti, pazzesche, da idealizzare, in tutto e per tutto da soddisfare. L'inchino per elle non può mai mancare, servirle è un immanso piacere, gli astri nelle viscere continueranno splendidamente a bruciare. Grazie. Grazie. Grazie.